... Professore Zichichi, le problematiche del nostro pianeta sono tantissime, quale la preoccupa di più? No, no, sono 72 emergenze planetarie che la Federazione Mondiale degli Scienziati studia da tempo. Abbiamo realizzato 100 progetti pilota nel mondo per dimostrare che queste emergenze planetarie possono essere superate se c'è volontà politica. Se vivessimo l'era della scienza, le 72 emergenze planetarie da noi studiate non esisterebbero, sarebbero state già risolte. Ecco l'impegno che noi scienziati abbiamo verso il futuro del pianeta. Questa mattina è stato ospite di una scuola, il liceo Fermi di Catanzaro. Che cosa è venuto fuori da questo incontro con i giovani? I giovani sono desiderosi di avere nel loro patrimonio culturale la scienza. La cultura detta moderna non è moderna, è pre-aristotelica. Perché è pre-aristotelica? Perché le grandi conquiste della scienza non fanno parte della cultura del nostro tempo, come se la scienza non fosse stata mai scoperta. Se vivessimo l'era della scienza non avremmo le 72 emergenze planetarie che la Federazione Mondiale degli Scienziati combatte da tempo realizzando progetti, non parole. Il grande progetto che abbiamo proposto al mondo è detto Science for Peace is World of War. Bisogna fare in modo tale che la scienza venga usata per difendere l'umanità. La situazione politica del nostro paese la preoccupa? Lei mi deve fare domande di fisica, non di politica. Io non mi occupo di politica e vivo fuori dall'Italia. Però io sono abbastanza fiducioso. Prima o poi se la caverà l'Italia. Grazie.